Da un lato queste politiche di sviluppo dei servizi telematici, chiamiamoli government, dall'altro la volontà precisa di abbattere il digital divide. L'obiettivo della mia relazione oggi è quello di illustrare da un lato chi è DeltaWeb, dall'altro di illustrarvi il percorso che DeltaWeb ha cominciato di fatto operativamente da due anni, non di più, a livello provinciale per realizzare di fatto una rete telematica a larghe a banda. DeltaWeb è partita come soggetto attuatore di politiche di sviluppo nell'ambito che è oggetto oggi della discussione, cioè della banda larga, per volontà dei comuni. Viene quindi progettata una dorsale che di fatto va a costituire la cosiddetta rete privata delle pubbliche amministrazioni, chiamata Lepida, che è una rete che metterà in collegamento tutte le sedi degli enti locali della nostra provincia, ma anche delle altre province dell'Emilia Romagna. La dorsale è realizzata a parte su strade, provinciali e comunali, soprattutto comunali, e parte su ferrovia. La rete rossa è una rete a disposizione delle pubbliche amministrazioni. La rete blu è una rete che possiamo gestire come DeltaWeb, come rete pubblica per i cittadini, cittadini, imprese e quant'altro. Questo è un ingrandimento dell'immagine precedente che riguarda il progetto Argenta. Noi arriviamo da Porto Maggiore con la doppia dorsale, il tratto rosso si fermerà in comune, la sede qui vicino, il tratto blu prosegue. Prosegue oggi via radio. Oggi partiamo da Argenta con dei ponti radio, vedete con quei tratteggi blu arriviamo in tutte le frazioni e arrivando nelle frazioni poi diffondiamo il segnale e i cerchi vi danno l'indicazione delle aree coperte dalle antenne di diffusione. I tempi del progetto Argenta li anticipati da assessore sono quelli contrattuali. Noi contiamo per la metà di febbraio di avere la rete di Argenta accesa. L'immagine successiva descrive quali sono i costi per il cittadino, sia che sia utente residenziale sia che sia impresa. Sono contratti che si differenziano per la banda garantita per le caratteristiche, oltre che per il prezzo.